Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i nostri approfondimenti. Oggi parliamo di sport, lo sport quello di base, lo sport quello amatoriale, quello non profit, quello che forma le giovani generazioni, che fa divertire anche gli adulti, che fa bene anche in età avanzata. Parliamo insieme a Bruno Molea che è presidente di ICS, l'Associazione Italiana Cultura Sport. Ben ritrovato. Piacere, piacere e un buon saluto a tutti i telespettatori. Ecco, cominciamo subito da qui, lo sport di base. Che momento è? Veniamo dagli anni duri della pandemia, tutti chiusi in casa, però tutti un po' abbiamo riscoperto anche il valore di fare attività sportiva, forse proprio perché ne eravamo privati. Beh, diciamo che la pandemia ha portato tanto dolore, tanti danni, sofferenza, però come tutte le situazioni un po' catastrofiche che poi producono anche degli effetti e fra i tanti effetti negativi quello positivo è stato di portare alla ribalta lo sport di base che era il fanalino di coda del grande mondo dello sport italiano, poco considerato, per niente sotto i riflettori e invece lo sport di base rispetto a quello di vertice muove numeri incredibili e svolge ruoli attraverso la pratica dello sport anche importantissimi che interessano la società civile del paese. Chi fa sport di base lo fa per divertirsi, sicuramente sì, lo fa per socializzare, sicuramente sì, però attraverso lo sport di base si favorisce l'integrazione all'interno del nostro paese e in questo momento l'integrazione è un elemento di grande importanza, visto un po' anche i flussi migratori che stanno interessando i nostri territori. Insomma, collabora anche insieme alle istituzioni e alle altre agenzie formative del paese a migliorare la coesione sociale all'interno del tessuto sociale del paese e non ultimo è un elemento che contribuisce alla salute e quindi attraverso un diverso stile di vita si prova anche a far risparmiare qualche soldo alla spesa sanitaria. ICS è uno dei principali enti di promozione sportiva in Italia, tantissimi affiliati, 140 comitati provinciali e regionali, è un sistema molto capillare. Beh sì, diciamo che abbiamo raggiunto in questi 60 anni di vita, perché quest'anno celebriamo 60 anni di vita. Auguri! Grazie, grazie. È una bella storia, una bella storia di associazionismo, una bella storia di volontariato, una bella storia fatta da persone che dedicano il proprio tempo gratuitamente a degli obiettivi che hanno come finale il beneficio dei cittadini e quindi lavorare per gli altri è sempre bello, gratifica. E dicevo, siamo abbastanza radicati, abbiamo praticamente una sede provinciale in tutte le province italiane, una regionale in tutte le regioni, ma abbiamo soprattutto una popolazione veramente importante, perché abbiamo raggiunto oltre 1.200.000 soci individuali e ci sono 12.600 società che sono sopravvissute alla pandemia, perché purtroppo la pandemia ci ha fortemente colpiti, non soltanto noi, il mondo dell'associazionismo in genere è stato colpito, molte società hanno chiuso, non ce l'hanno più fatta, per ovvie regioni, perché non erano più in grado di pagare gli affitti, non avevano più utenze e di conseguenza hanno dovuto rinunciare a quell'attività che svolgevano da tanto tempo, ma soprattutto quella funzione sociale che attraverso lo sport veniva declinata e di questo io ne sono veramente molto dispiaciuto, perché se è vero come è vero che abbiamo detto che lo sport di base riesce poi a coniugare tutta una serie di effetti positivi nel tessuto sociale del Paese, nella misura in cui delle società chiudono, si rischia di diminuire quell'effetto, se non addirittura in talunni caso interromperlo e a chi è dedicato quell'effetto, agli anziani e ai giovani in particolare. Ecco, a proposito lei parlava di volontariato, no? Si trovano ancora coloro che insomma a tempo perso vogliono dedicare la loro attività, il loro tempo, l'educatore oppure il custode del campetto che sta lì ore e ore per seguire i ragazzi, cioè si riesce? Diciamo che è cambiato il modello del volontariato italiano all'interno del mondo dello sport, prima era fortemente caratterizzato con quel tipo di figura, oggi ce ne sono ancora tanti di volontari che gratuitamente prestano la loro opera, però oggi il movimento sportivo di base è diventato anche uno strumento in grado di offrire lavoro perché molti, soprattutto i diplomati ISEF, voglio dire, dico ISEF così ci capiamo subito senza star lì a parlare di scienze motorie piuttosto che di altro, scelgono anche per una ragione molto semplice perché dall'altra parte non trovano possibilità occupazionali di svolgere la loro professione, la loro funzione di istruttori e di insegnanti di educazione fisica all'interno delle società sportive di base e quindi questo ha fatto sì che il movimento sportivo di base rappresentato da 14 enti di produzione sportiva oggi sul territorio, uno di questi appunto è l'AICS che io presiedo, sono diventati non soltanto più uno strumento di aggregazione, un momento per passare un po' di tempo insieme eccetera, ma sono soprattutto diventati anche uno strumento capace di offrire opportunità di lavoro a chi è interessato e in questo caso benvenga anche una legge che in qualche modo cerca di dare dignità a questi lavoratori del mondo dello sport oggi quindi il movimento sportivo di base è anche questo, rappresenta, oltre a rappresentare una grande leva economica nel paese Ecco, leva economica, parliamo anche di questo ramo insomma, il rapporto finanziario, come è uscito il settore dalla pandemia dicevamo, i bilanci hanno tenuto anche per quanto riguarda la vostra associazione o si è fatto fatica? No, beh, per quanto riguarda l'AICS devo dire con grande soddisfazione, abbiamo attraversato momenti duri come tutti però una corretta gestione amministrativa nel corso degli anni precedenti la pandemia hanno permesso di affrontare questa terribile catastrofe con serenità e quindi ripresentarci a quella che speriamo sia la fine di una pandemia che possa finalmente essere iscritta soltanto nei registri degli effetti che hanno caratterizzato la vita di questo mondo ci siamo ripresentati sicuramente con le ossa rotte ma non nelle condizioni di non ripartire e la ripartenza è stata eccezionale perché abbiamo avuto una grande risposta da parte dei nostri associati che aspettavano veramente la possibilità di ritornare a fare le cose normali, quelle che facevamo prima e quindi devo dire con soddisfazione, passato un momento di grande preoccupazione dal punto di vista economico oggi siamo tornati tranquilli la cosa che più mi fa essere felice è che i dipendenti della sede nazionale per esempio hanno tranquillamente preso il loro stipendio durante tutto questo periodo e quindi le famiglie che lavorano e che vivono grazie anche ad ICS non hanno avuto se non altro quel tipo di preoccupazione nel contesto più generale purtroppo lo dicevo prima alcuni nostri affiliati invece non ce l'hanno fatta nonostante la pandemia abbia fatto sì che si accendessero i riflettori sul movimento sportivo di base e nonostante per la prima volta i governi che si sono succeduti nel periodo della pandemia hanno dimostrato attraverso prima il Ministro dello Sport e poi il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Sottosegretariato dello Sport una grande attenzione al movimento sportivo di base che si è tradotto poi in effetti diversi la legge dello sport, la legge di modifica allo sport che è intervenuta ha di fatto rappresentato un punto focale che durante la pandemia ha cambiato le regole del gioco nel cambiare le regole del gioco nell'istituire una società a partecipazione pubblica sport e salute per essere molto chiari che si occupa ora dello sport in Italia e soprattutto del finanziamento anche dello sport in Italia ecco, si è finalmente aperta una porta che ci fa sperare che anche lo sport di base possa essere riconosciuto per i suoi valori tanto quanto quello di vertice e in questa direzione se non altro l'attenzione del governo nei confronti delle società sportive di base delle associazioni c'è stata poi possiamo discutere se si poteva fare meglio se si poteva sicuramente utilizzare meglio quel denaro però già il fatto che il governo abbia avuto questa sensibilità è un elemento che ci gratifica che ci fa sperare che in futuro possiamo veramente avere anche noi riconosciuto a pieno titolo il ruolo che svolgiamo che non è soltanto quello di promuovere uno sport non è soltanto quello di insegnare un gesto atletico ma è anche quello di svolgere una funzione sociale nel paese ha citato il governo, il governo Meloni si è insediato insomma da qualche mese che cosa, lei è anche ex parlamentare che cosa pensa, è sensibile ai temi dello sport di base secondo quello che insomma si è potuto vedere allora è ancora un po' presto per parlarne ovviamente perché di solito si aspettano i 100 giorni di governo per poi cominciare a fare delle verifiche si è insediato un governo che ha avuto una larga maggioranza di consensi quindi è giusto che abbia la possibilità di governare e di dimostrare magari agli altri che si poteva fare meglio questo lo dico con grande onestà e sincerità da uomo civico e da uomo che affronta la politica nel modo che andrebbe affrontata cercando di dare il meglio nel momento in cui si svolge quel ruolo e ripeto è ancora molto presto un dato positivo è stato individuato un ministero dello sport di nuovo e questo è sicuramente un dato positivo io credo che dovrebbe definitivamente essere sostanziato che quando si fa un governo il ministero dello sport c'è ci deve essere ci deve essere, non farlo saltare da un ministero a un sottosegretariato e così via è stato messo finalmente a capo di quel di Castero un uomo che viene dallo sport un uomo che sa di che parla un uomo che ha una cultura sportiva importante che ha avuto un trascorso anche nel mondo del calcio che non è un ambiente particolarmente facile da gestire e da governare è un uomo che nelle sue enunciazioni uscito dal giuramento col Presidente della Repubblica ai microfoni dei giornalisti la prima cosa che ha detto dobbiamo aiutare lo sport di base per quello che è capace di svolgere come ruolo nel paese ecco, voglio dire se questo è il buongiorno e se il buongiorno si vede dal mattino io sono qui fiducioso che aspetto poi il Ministro Abodi, Andrea, è anche un amico è uno che conosco bene con cui spessissimo abbiamo parlato di sport e di politica sportiva con Dera Presidente dell'Istituto del Credito Sportivo addirittura ha messo in campo una serie di interventi per aiutare le società sportive attraverso la banca che presiedeva insomma, ci sono buoni presupposti le condizioni per apparecchiare una tavola interessante ci sono poi si tratta di capire nella contrattazione del Consiglio dei Ministri quanto potrà incidere però siamo qui che aspettiamo Senta, lei diceva è ripartita un po' a molla anche l'attività delle associazioni dopo la pandemia tanti gli eventi c'è anche un evento perché lei poi è a Forlivese noi siamo insomma Sì, quando riesco a starci con grande piacere tra i vari impegni anche perché ha tantissime insomma, presiede tantissimi anche altri enti e comunitati per cui, però c'è un evento un grandissimo evento che è anche in programma quest'anno finalmente dopo essere stato rimandato per via della pandemia World Sports Games a Cervia a Settembre quindi qui nella nostra Romagna tantissimi, migliaia di atleti amatoriali che arriveranno allora che cosa come si si prepara? Ma i World Sports Games sono un evento veramente importante è l'evento clou della Confederazione Internazionale dello Sport Amatoriale che io presiedo indegnamente ma con grande piacere che rappresenta 52 paesi del mondo quindi già questo dà la dimensione dell'evento che cosa sono? Io le chiamo impropriamente e tutte le volte che a Losanna incontro Thomas Bach mi punta sempre all'indice dicendo smettila di chiamarle alle Olimpiadi degli Amatori perché il termine Olimpiadi è chiaramente un termine che soltanto le Olimpiadi vere possono utilizzare e quindi il CIO però questo sono sono le Olimpiadi degli Amatori perché la formula è la stessa delle Olimpiadi quindi c'è una cerimonia di apertura c'è una cerimonia di chiusura ed è un evento multisport quindi tutti gli amatori dei paesi che sono aderenti alla Confederazione Internazionale dello Sport per Tutti si ritrovano ogni due anni per celebrare i campionati olimpionici della loro associazione della loro confederazione quindi ci sono un po' tutti gli sport sì quelli fra l'altro gli sport ufficiali e quelli non ufficiali quindi noi annoveriamo anche gli sport non ufficiali una caratteristica mi piace sottolinearla ai World Sport Games noi facciamo sia i campionati per normodotati che per i diversamente abili non facciamo due due categorie stanno tutti insieme come è giusto che siano giovani anziani e meno giovani veterani dello sport che ritornano a fare attività sportiva quando raggiungono un'età più vicina alla mia che è quella degli sportivi di vertice e mediamente è una carovana che muove fra i 4 e i 5 mila atleti provenienti da tutte le parti del mondo con una prevalenza dell'America Latina una prevalenza dell'Africa ma ci sono addirittura atleti che arrivano dall'Asia logisticamente insomma deve essere anche una bella sfida e poi porterà anche un bel indotto Cervia non riesce chiaramente ad assorbire tutto ma Cervia è come dire l'earth quarter dei giochi è il comune capofila che si è messo in campo per ospitare questi giochi lo aveva già fatto durante la pandemia quando poi per la pandemia li abbiamo dovuti annullare e quindi sono felice che siamo riusciti a riportarli a Cervia anche perché ci tenevano tanto e li ringrazio per questa attenzione che il comune di Cervia ci sta riguardando però non è solo Cervia sarà Cervia Cesenatico sarà Rimini sarà Riccione e Misano addirittura quindi tutta la Romagna e beh sì perché gli impianti sportivi che ci servono sono tanti le discipline sportive sono talmente tante a cui si aggiungono quelle della sabbia quindi tutto ciò che lo sport può declinare sulla sabbia noi lo facciamo e si aggiunge quest'anno addirittura un campionato mondiale di nuoto in acque libere e quindi faremo anche il mare oltre che le piscine è una bella è una bella avventura perché poi c'è una carovana dietro fra allenatori accompagnatori mariti e mogli degli atleti figli perché si muove la famiglia anche in questo momento e quindi raggiungiamo tranquillamente i 7-8 mila turisti sportivi che invaderanno pacificamente la nostra riviera romagnola prima dicevo lo sport di base è una grande leva economica e questa ne è la dimostrazione perché per una settimana ci sarà gente nelle pizzerie nei negozi soprattutto in un periodo di bassa stagionalità quindi un grande aiuto anche per gli albergatori anche se visto i cambiamenti climatici ormai settembre non è più un momento di bassa non si sa che cosa accadrà non si sa che cosa accadrà però noi ci lavoriamo per aiutarli e tutto questo da una ricerca fatta dall'istituto da un istituto di ricerca e dall'università di Parma quota per l'Italia quindi non per i World Sport Games qualche punto di PIL più di due punti di PIL il movimento sportivo di base che sono circa 8 milioni e mezzo di iscritti nelle varie organizzazioni come ECS e quotano un volume che viene rappresentato in più di due punti di PIL quindi questa è la grande leva economica che noi muoviamo e che non ci viene riconosciuta i World Sport Games molto di più perché gente che viene da fuori quindi aerei eccetera ma soprattutto i World Sport Games e chiudo su questo argomento sono anche un grande elemento di promozione del territorio perché gli stranieri che arrivano conoscono i nostri territori e poi ci ritornano e torneranno tutti gli anni beh sì sapendo che io sono qui ho modo anche di di toccarlo perché ogni tanto c'è qualcuno mi telefona vengo a fare le vacanze in Rivera Adriatica loro dicono e quindi a settembre abbiamo questa invasione pacifica di tantissimi atleti amatoriali io sto leggendo i dati dell'osservatorio permanente degli enti di attenzione sportiva e una cosa proprio recente di dicembre un terzo degli italiani non si muove no noi siamo fondamentalmente è un problema la sedentarietà ma questo è figlio anche di una di un periodo politico particolare in cui l'attenzione verso la la pratica motoria è stata molto bassa il fatto che lo stesso fatto che nella scuola si promuova poco l'attività fisica venga vista almeno fino a poco tempo fa oggi fortunatamente non è più così fosse vista come un elemento di distrazione anche dall'attività scolare quotidiana ha fatto sì che il nostro paese non investisse molto nella nella promozione della pratica motoria si è aggiunto poi che la tecnologia e l'avvento delle tecnologie hanno distratto i nostri giovani dall'attività fisica portandoli più alla poltrona col joystick in mano insomma oggi purtroppo noi registriamo un primato che non ci fa felici anche se lo ripeto negli ultimi anni la tendenza si è invertita perché quel dato era molto più elevato qualche anno fa oggi invece c'è un ritorno alla consapevolezza dei benefici dell'attività fisica a tutti i livelli per gli anziani perché veramente gli anziani che fanno attività fisica sono molto più attivi sono molto più autonomi soprattutto e soffrono anche meno di depressione e di isolamento e lo è per i bambini per i giovani noi siamo diventati un paese che come l'America ha il problema del diabete infantile e il diabete infantile è figlio dell'inattività il primo elemento per combattere il diabete infantile è far fare attività ai propri figli portarli in palestra fargli fare attività qualsiasi essa sia non è importante ma non è altrettanto importante che diventino tutti dei Ronaldo voglio dire ma è importante che diventino dei cittadini in buona salute questo è l'obiettivo di un ente di promozione sportiva non fabbricare dei campioni poi per chiarità i campioni benvengano perché ci fanno gioire ci fanno sentire l'inno italiano quando salgono sul podio ci commuovono con le loro gesta bravissimi ma la nostra missione la missione di un ente di promozione sportiva è un'altra è far fare attività a tutti dotati e meno dotati poi i dotati faranno la loro strada ma noi la nostra strada la facciamo tutti insieme per il bene psicofisico dei nostri cittadini lei ha citato un tema interessante quello dei bambini davanti alla tv davanti ai joystick secondo lei è un trend che si può invertire si può riportarli sul campetto a giocare a calcio insieme agli amici pomeriggio non si può si deve vede gli enti di promozione sportiva inconsciamente poi svolgono anche un ruolo sottintese poco evidente che è quello di essere un po' i luoghi i luoghi dello sport sono anche i luoghi dove un po' parcheggiare i figli quando si va a lavorare lo dico è un brutto modo di dirlo lo so però è un po' la verità però far fare ai figli sport fa bene offrire alle famiglie la possibilità di lasciare i propri figli in un ambiente dove si fa sport vuol dire anche avere la tranquillità mentre si è altrove a svolgere le funzioni quotidiane di aver lasciato i figli in un ambiente dove attraverso lo sport senz'altro cresceranno rispettosi delle regole sicuramente sì perché lo sport implica il rispetto delle regole rispettosi dei propri simili soprattutto sì e quindi cittadini migliori noi siamo un po' l'ultima è l'ultimo vagoncino di quel trenino che è l'agenzia educativa del nostro paese fatto di famiglia assolutamente sì di scuola e poi però dopo la scuola arriviamo noi che con il nostro agire quotidiano cerchiamo di aiutare i ragazzi a essere autosufficienti rispettosi e buoni cittadini in sostanza anche questo noi facciamo inconsciamente promuovendo dallo sport e quindi per chi si accinge a fare questo due sono elementi fondamentali non ci sono distinzioni né di sesso né di capacità perché non è questo l'elemento premiante e secondo neanche di razza si mancherebbe o religioni e secondo una grande professionalità nei nostri istruttori proprio perché approcciamo nel caso dei giovani a un materiale molto delicato e lei mi insegna che i giovani sono un po' delle spugne sanno assorbire tutto ciò che gli arriva e allora noi dobbiamo fare in modo che assorbiscono il meglio non il peggio bene con questo bel messaggio di Bruno Molea dobbiamo chiudere questa puntata sarebbe bello parlarne ancora ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito in bocca al lupo per tutti i progetti di promozione sportiva della sua associazione grazie e grazie soprattutto per l'opportunità che mi avete dato parlare di sport per me e parlare della mia vita molto bene grazie anche a voi per averci seguito e a Bruno Molea presidente di ICS buona giornata grazie a tutti grazie a tutti